Una manifestazione in grado di coniugare sport, divertimento e socializzazione. Come sta reagendo la collettività? Allora, quando a Messina c'è la forza, la capervità di creare un evento, qualunque questo sia, perché ci sono tanti nostri amici messinesi che organizzano eventi, quando c'è un evento la gente ci partecipa, vi partecipa e così abbiamo fatto con la Maratona e con lo Sport Fitness Messina Festival una manifestazione di grande livello per la nostra città che piano piano crescerà. Questo è un contenitore, è un potenziale destinato a crescere. Messina Maratona è un gruppo che rappresenta la città che non si vuole arrendere, quindi la Maratona di Messina che va sul race sport darà immagine positiva. Quindi tra una decina o quindici giorni Messina Maratona sarà sulla Rai, Rai Sport, per dare un'immagine positiva della nostra città. Cioè Messina sulla Rai per dire noi siamo qua, ci siamo e non ci arrendiamo. Ci vuole una partecipazione maggiore della città, che già c'è, devo dire che già c'è. Ieri in fiera sembrava la fiera campionaria, era pienissima, sotto ogni aspetto. E' una partecipazione sotto tutti i punti di vista. Sotto tutti i punti di vista intendo che se ogni messinese che organizza qualcosa, qualunque essa cosa sia, andiamo, partecipiamo. Facciamo vedere che noi siamo con i nostri colleghi, con i cittadini per dare energia alla nostra città. Perché l'energia è un fattore mentale e aiuta sicuramente a produrre delle cose importanti. Grazie. Grazie a voi.